Bene, oggi parliamo di qualcosa di diverso, parliamo di microfoni, perché chi vuole fare lo youtuber deve considerare anche questo aspetto, quale microfono utilizzare. Io ho trovato una soluzione a costo zero, ma prima di parlarne, sigla! Beh, oggi parliamo di microfoni. Perché parliamo di microfoni? Come dicevo nell'introduzione, chi ha intenzione di fare lo youtuber deve considerare questo aspetto che, secondo me, è fondamentale. Un buon video deve essere accompagnato anche da un buon audio. Allora, dicevo costo zero. Perché costo zero? Dunque, perché io ho comprato dei microfoni, ho preso il lavalier, ho preso dei microfoni, quelli tutti particolari, belli, speciali, con il coso che è dorato, bello, e vari tipi, anche quello di mettere sopra la videocamera, ma sinceramente nessuno di questi microfoni mi ha mai soddisfatto, perché tutti quanti hanno un minimo di fruscio. Allora mi sono detto alla fine, disperato, e disperato, sì, ci sarà un modo per venire fuori, e per casualità ho scoperto che il mio smartphone è un ottimo microfono. Registra senza il minimo fruscio, che è quello che a me dà veramente fastidio. Ora vi faccio ascoltare, le mie varie fotocamere, come registrano il suono. Sentiamo ora la GF5, che è quella che mi sta riprendendo in questo momento. GF5 Lumix. Ecco, questo è l'audio della Lumix GF5, ma è importante sentire anche l'audio quando c'è silenzio. Ecco, questa era la GF5. Bene, quello che state ascoltando adesso invece è l'audio della G6, un'altra fotocamera che è di mia proprietà. Un attimo di silenzio, ascoltatela questo audio. Che ve ne pare? Questo è l'audio della G6, della Lumix G6. Ed ecco, quello che avete detto adesso, anzi, quello che sentite adesso è l'audio della G100, della Lumix G100, quella che mi fa impazzire con l'autofocus. Non so per quale motivo questa qua come autofocus fa un po' quello che vuole, ma quello che interessa a noi adesso è l'audio. Allora, facciamo un attimo di silenzio, ascoltate l'audio. Eh sì, perché l'audio va ascoltato anche in silenzio. Ecco, questo era l'audio della Lumix G100. Una bella macchinetta, non posso parlarne male, se no per l'altro focus. Ma ora torniamo alla GF5, quella a quale riprendo il video, e continuiamo la nostra conversazione. Quello che vediamo adesso è l'elaborazione che faccio io dell'audio che dallo smartphone porto sul computer e poi con Audacity lo elaboro facendo della compressione e riducendo il rumore che è dovuto al fruscio. Perché anche lo smartphone, benché molto migliore delle tre foto videocamere, un minimo di fruscio ce l'ha anche lui, eh, non è perfetto. Quindi questa registrazione fatta con lo smartphone, avendo un minimo di fruscio, come dicevo, io lo tolgo con Audacity. Vediamo la registrazione fatta con Audacity e poi come lo porto su Filmora per sincronizzarlo e poi editarlo. Bene, vediamo ora come si elabora una traccia audio per eliminare fruscio. Apriamo Audacity, ok, prendiamo l'oggetto che vogliamo elaborare, questo qua, apro. Ecco, questa è la nostra traccia. Io ho appositamente lasciato una parte nella quale non ho parlato, proprio per sentire il fruscio. Ora lo sentiremo il fruscio com'è. Diamo avvio. Sentite? Perfetto. Ora elimineremo questo fruscio. Come si fa? Questa parte deve rimanere selezionata. andiamo su effetti, riduzione rumore e diamo elabora profilo rumore. Audacity elabora quella piccola parte di traccia ora. Perfetto, è elaborata. A questo punto selezioniamo tutta la traccia sulla quale vogliamo applicare tutta la riduzione del fruscio. Torniamo su effetti, allora per selezionarlo basta cliccare su questo tasto qui. Torniamo su effetti, riprendiamo riduzione rumore e questa volta invece che elabora profilo diamo ok. Perfetto. Audacity ha elaborato tutta la traccia eliminando il fruscio. Però sentiamo solamente la parte che ci interessa, come è diventato adesso. Prendiamo di nuovo questo pezzo qui e diamo play. Sentite? Il rumore è scomparso. A questo punto, visto che il lavoro che abbiamo fatto, esportiamo il file. Andiamo esporta, lo esportiamo come wav. A questo punto andiamo salva. Non lo do perché l'ho già fatto in precedenza, quindi tengo il file come era fatto. L'ho fatto solamente come demo questo, ok? Però possiamo dare salva e sovrascriverlo se vogliamo. Ok. Il nostro file è stato modificato. Il fruscio è stato eliminato. Bene, così abbiamo visto come si utilizza Audacity per togliere il rumore e migliorare la qualità dell'audio. Ora vedremo come si può sincronizzare l'audio registrato dallo smartphone con il video su Filmora. C'è una funzione fatta apposta, un Filmora 11, perché ho installato questa versione, oppure ho pagato la licenza, l'ho comprata. Ogni tanto qualcosa dobbiamo pure pagarla, eh. C'è una funzione su Filmora 11 che permette di sincronizzare l'audio del video con l'audio che dello smartphone che io ho importato sul computer. Avete sentito magari qualche rumore di sottofondo che è il rumore della sedia? Devo vedere se si può con Audacity togliere anche il rumore della sedia. Ma vediamo adesso Filmora come funziona. Bene, vediamo ora come si abbina l'audio dello smartphone al video utilizzando Filmora 11. Per prima cosa importiamo i due oggetti, cioè il video e l'audio. Prendiamo quindi il... questa è la parte audio. Ok. Apro. Vediamo un po' dove l'ho messa. Ed è qua. Ora importiamo il video, che sta qui dentro, nella parte video, ed è questo qua. deve essere questo, sì. Apri. Benissimo. A questo punto li porto sulla mia timeline. Prendo anche l'audio e la porto sulla timeline. Ecco. Dunque, ora seleziono i due oggetti. Il video e l'audio. L'audio. Poi tasto destro. do sincronizzazione automatica. Notate adesso cosa fa Filmora. Vedete che sposterà verso sinistra la parte audio. Ecco, l'ha fatto. A questo punto l'audio è stato sincronizzato. Proviamo ad ascoltarlo. Andiamo più avanti perché dico delle fesserie. Si sente anche un po' di rumore di fondo, vero? Abbiamo visto il motivo per cui... Ok. Togliamo le parti che non servono. Ah, è una cosa importante. Togliamo anche l'audio dalla parte del video. Silenzioso. Eccolo qua. Aspettate un attimo che sto sbagliando qualcosa. Ecco, solo la parte video. Qui sotto c'è la parte audio. Vedete il volume. Lo rendiamo silenzioso. Audio. Silenzioso. Perfetto. Adesso riascoltiamo. Con Filmora. Va già meglio, vero? Importato. Benissimo. A questo punto possiamo tagliare le parti che non servono. Ok. Benissimo. Dall'ok in avanti. Ecco da qua. Seleziono le due tracce video e audio. E taglio. A questo punto elimino la parte che non mi serve. E l'audio è sincronizzato. Ok. Facciamo un... La sedia è da cambiare. Andiamo verso l'inizio. Abbiamo visto come si abbia... Benissimo. Abbiamo visto come si può sincronizzare l'audio del mio smartphone con l'audio e il video che ho caricato su Filmora. Ok. Facciamo un rewind. Partiamo dalla fine e andiamo verso l'inizio. Abbiamo visto come si abbina un audio di uno smartphone con Filmora al video importato. Abbiamo visto come si può editare un audio con Audacity togliendo il rumore di fondo, il fruscio. Abbiamo visto il motivo per cui sono passato allo smartphone. Ovvero... Non mi costa niente. Ce l'ho già lo smartphone. Non devo comprare i microfoni. Anche perché ho speso soldi inutilmente per comprare altri microfoni. Che non è tutta colpa loro. È colpa un po' della macchina fotografica. Perché il preamplificatore della macchina fotografica è quello che è. Non ci si può aspettare chissà quali cose da un microfonino piccolo così eccetera eccetera. Quindi con questo scamotaggio si può fare un bel lavoro. Perché ho fatto questo video, parlando di questo microfono, di questo audio dei video? Perché in un commento a un video che avevo fatto un signore giustamente mi ha detto non si capisce niente di quello che dici. Già io ho problemi a parlare perché parlo in fretta, mi mangio le parole. A volte neanche mia moglie capisce quello che dico. Quindi era giusto migliorare la parte audio se non altro dal punto di vista dell'ascolto. Evitando i rumori di fondo che possono dare fastidio che mi fanno unire la pelle d'occhio e mi fanno dimettare nervoso. Bene, provate anche voi a utilizzare il vostro smartphone che già avete a disposizione. Vi registrate un audio, ve l'ho modificato con Audacity, l'ho copiato poi con Filmora perché c'è sicurizzazione, come vi ho fatto vedere. E quindi risolverete i problemi spendendo zero. Almeno zero. Anche lo smartphone costa. Però se l'avete già a disposizione non dovete comprare un altro a posto. Usate quello che avete. E poi, vabbè, Filmora è quello che serve per fare i montaggi video e quindi al suo prezzo. Non fate come alcuni che craccano i software. Il software va pagato giustamente. Qualcosa bisogna pure pagare. Io ho comprato la licenza di Filmora. Ok, bene. Non ho altro da aggiungere. Provate anche voi questo sistema. Microfono e videocamera. Microfono e smartphone e videocamera. E fatemi sapere se la cosa vi va genio. Ok? Vi ringrazio. E come dico sempre alla fine dei miei video. See you soon! Ciao!